Come inizia questa storia così terribile del mostro di Firenze? Secondo me inizia nell'agosto del 1968, perché secondo me il primo delitto, duplice delitto del mostro di Firenze risale a quella data. Lì questa è una questione controversa, molti degli inquirenti hanno ritenuto che questo delitto fosse avulso da tutti gli altri per una ragione, la ragione fondamentale sarebbe questa, che l'assassino non avrebbe in questo caso agito sul corpo della ragazza e questo non è vero, perché in realtà l'assassino rivestì il corpo della ragazza rimettendo le mutandine. Poi nel 1974 avvenne qualcosa di più brutto diciamo. Beh insomma sì, nel senso che lì l'assassino dopo aver ucciso Stefania Pettini a coltellate, attenzione perché Stefania Pettini non fu uccisa con la calibro 22, ma fu uccisa a colpi di coltello, infilì su di lei con 96 coltellate sul corpo che l'ha colpito in varie parti del corpo e soprattutto intorno alle zone erogene come se volesse in qualche modo contraddistinguere quella zona, non solo, ma poi le infilò nella vagina un traccio di vite e quindi per questo apparve immediatamente qualche cosa che aveva a che vedere con un tipo di patologia tipo sessuale, psicosessuale. Però fino a quel momento, in quel momento nessuno pensò ad un assassino seriale perché era quello che era considerato il primo caso. Solo un seguito quando ci si accorse che dopo il delitto del giugno del 1981, ci si accorse che l'arma che aveva colpito questi giovani, gli altri giovani, la Dinuccio e Gentilcore, era la stessa arma ed era identico il munizionamento perché si trattava di pallottole Winchester con l'acca incisa nel fondello e si cominciò a pensare a qualcuno che commetteva delitti seriali. Vorrei aggiungere questo, che quando appare per la prima volta questa ipotesi, vale a dire l'ipotesi dell'assassino seriale che agisce in questo modo, quasi per interrompere la zona amorosa, perché sia nel caso della Stefana Pettini che nel caso della Carmela Dinuccio era intervenuto l'assassino al momento dei preliminari amorosi, vale a dire prima ancora che questi giovani avessero hanno portato alla conseguenza naturale i loro preliminari. Ecco dicevo in questa epoca qui è un'epoca particolare, perché siamo a distanza di uno, due, tre anni dal 78, vale a dire dall'omicidio e sequestro di Aldomoro, siamo a un anno a distanza dalla strage di Bologna, cioè siamo in un periodo in cui la gente ha paura, in cui esiste una tensione generalizzata intorno a fatti di questo genere. E quindi fin da questo momento si comincia ad avvertire una specialissima tensione su questo fatto, proprio la sua eccezionalità, perché certo non è certamente il primo caso di coppie amorose che vengono uccise da un serial killer, sono avvenuti altri e altri, specialmente l'America, però in Italia mai e soprattutto nemmeno l'America ha così lunga distanza da un fatto rispetto a un altro, perché un'altra caratteristica di questi delitti è l'intervallo che c'è tra l'uno e gli altri. Tanto che c'è anche da domandarsi se questi intervalli non siano riempiti da altri delitti in cui le vittime non siano due, ma siano per esempio una sola, una donna in particolare. Nell'81 però c'è questo delitto uno a giugno e uno a ottobre. Sì, 4 mesi soltanto in distanza l'uno dall'altro ed è il periodo più breve che si interpone fra l'uno e l'altro. E c'è da chiedersi perché? La risposta è chiara. Dopo il primo delitto comincia da parte dell'assassino una sorta di interazione di lui con le indagini. Viene colpita questa coppia solo a 4 mesi di distanza, quando in carcere c'è Enzo Spalletti. Enzo Spalletti è un guardone, confesso a questo punto di vista, che sta in carcere perché ha fatto delle dichiarazioni assurde. si sa che lui immediatamente la mattina presto del giorno successivo al delitto, al duplice delitto, parla con la moglie e dice, qua ci sono due cadaveri, io ho visto questi due cadaveri, questi due giovani uccisi e dà anche qualche particolare sulle scissioni fatte sul corpo della ragazza, insomma dimostra che lui a questo fatto ha assistito. Gli chiedono come mai ha detto queste cose e lui fa delle dichiarazioni assolutamente non vere perché dice la prima volta perché non ha sentito parlare in un bar, perché è assolutamente falso. Quando gli viene contestata la falsità della dichiarazione la diceva lo ho letto sul giornale, impossibile perché il giornale pubblicò la notizia il giorno successivo. sollecitava a dire perché dopo che lui ha ammesso di essere stato sul posto, questo delitto avviene vicino ad una discoteca, che è fra l'altro una delle caratteristiche costanti di questi delitti, costanti nel senso che almeno quattro o cinque volte vicino c'è la discoteca, come l'altro aspetto costante è la vicinanza di un fiume. E lui diceva, lui c'era, però ci sono andato via prima. Questo viene sbettito anche dall'amico Fosco, Fosco, il cognome in questo momento non me lo ricordo, che questi guardoni a volte si associano e questo qua è uno che lo accompagna sempre in questa questa specie di sport che lui esercita, è stato andato a guardare le coppiette, poi ho saputo che da questo è nata una specie di indagine su questo aspetto, sembra che ci sia della gente che lo fa proprio costantemente, insomma, addirittura c'era un luogo in cui si incontravano, si scambiavano materiali, cassette videoregistrate, cassette solamente sonore, si affittavano i posti pagando, si svolgevano delle contrattazioni e il posto era la taverna del diavolo, dalle parti là di Roveda. E quindi questo amico dice, no, muovete, io sono andato via, lui è rimasto là, quanto non lo so, ma io sono andato via e lui è rimasto là. Un amico che è importante per un'altra ragione, fa altre dichiarazioni molto importanti. ecco, e questo sta andando in galera, e nel frattempo alla famiglia arrivano delle telefonate, che vengono raccolte dalla moglie e dal cognato, e in queste telefonate una persona dice, ditegli che stia zitto, perché tanto verrà scagionato. E poi dice, comunque, se si fa un po' di galera, dice questa persona, tutto sommato gli sta bene, perché è un grande imbecille, chi gliel'ha detto a lui di dire che aveva detto la notizia sul giornale, quando tutti sanno che il giornale è apparso il giorno dopo. e questo fa capire perché. Perché questo secondo delitto dell'81, duplice delitto dell'81, quello di Calenzano, Susanna Cambi e Stefano Baldi, sia così ravvicinato nel tempo. e quindi, perché c'è questo che mi nasce a parlare? Perché questo in galera non ci vuole più stare. Ma come si presentava l'atmosfera a Firenze in quegli anni? Gli ho detto. Terrore, panico? Si, era un'atmosfera particolarmente tesa. Io, proprio parlando ieri l'altro, in questo coscedimento quello vicino, ho parlato di sindrome del mostro, che prende un po' tutti, prende i giudici, prende i giornalisti e prende la gente, comune. E da allora cominciano ad arrivare le lettere anonime, le segnalazioni, la polizia, a centinaia eh. Ciascuno ha il suo mostro preferito. Ma questi delitti, secondo lei, avevano uno scopo punitivo per le coppie? dell'atto che stavano compiando. Qui bisogna distinguere. C'è una motivazione reale, che è quella, secondo me, tipica dell'ast-murter, va a dire del criminale, dell'omicida, il quale uccide per una funzione di carattere sessuale. Si soddisfa sessualmente solo uccidendo, oppure in special modo uccidendo. da un certo momento o poi comincia a toglier via queste parti del corpo della ragazza, perché il possederle, il maneggiarle probabilmente, successivamente, o il vederle soltanto, sollecitano lui il ricordo del fatto e sollecitano anche la stessa soddisfazione ipoerotico. Ecco, che fra l'altro vale non solo per i due delitti dell'81, quando comincia a descendere queste parti del corpo e delle ragazze, ma anche per il 74 e per il 68, perché che fa nel 68? nel 68 porta via la catenina di Barbara Dolce, con un immaginetto. Nel 74, rovista nella borsa della ragazza. non sappiamo se abbia portato via qualcosa, ma sicuramente ha rovistato nella borsa della ragazza, della ragazza in particolare. e quindi ecco, poi successivamente, secondo me, sollecitato alla visione di un film, come da un punto di vista di precedente, criminologico, avviene nel caso del mostro di Düsseldorf, il quale si carica, da un punto di vista di pulsione erotica, vedendo delle immagini su delle pubblicazioni pseudo pornografiche, o pornografiche, e lì c'è un film, che si chiama Maniac, del 1981. questo film, la cosa procede così, per tutto l'arco del 1981, fin dalla fine dell'80, fin dalla fine dell'80, fino al giugno dell'81, una televisione privata, fiorentina, toscana, trasmette quasi ossessivamente il trailer di questo film. è l'epoca in cui cominciano a nascere queste televisioni private. e devono riempire il palinsesto, e spesso lo riempiono con questi trailer, e il trailer di Maniac è una costante. Beh, Maniac è un film in cui c'è un serial killer, un mostro, il quale uccide le coppie in automobile, dopo di che toglie lo scalpo alla ragazza, lo scalpo nel senso della capigliatura, col quale poi scalpo riveste le manichine, nel suo ambiente preferito, e così. questo è il film, tra l'altro, un film non un horror americano di quelli di serie Z, insomma. è certamente un prodotto cinematografico di serie B, però è fatto da un regista che sa il suo mestiere, sa un artista, insomma, piuttosto, ora non mi ricordo il nome, che poi fra l'altro farà anche dei film di maggior impegno migliori, ed è piuttosto curato, piuttosto fatto bene questo film. Ecco, poi succede che il film viene proiettato, entra nel circuito, vedete proprio, cinematografico, e per tre giorni, il 20, il 21 e il 22 ottobre del 1981, viene proiettato per questi tre giorni in un cinema di Firenze, che è il cinema nazionale, il più vecchio cinema nazionale, che ora non esiste più, per solo i tre giorni. Questo, secondo me, è molto indicativo, fra l'altro, questa associazione del maniac con queste escissioni, fatte in questo modo, non ha un'idea mia. Mi schisse una lettera un illustratore di fantascienza, che avevo conosciuto in una convenzione di fantascienza, e soprattutto un medico fiorentino, il quale ci ha fatto un libro di quelli stampati a computer, lui, non so il cognome, ha voluto sempre mantenere l'anonimo, è venuto due volte a parlare con me, non mi ha voluto dire come si chiama, perché teme, ha paura, però lui, ha fatto questo studio, mi disse che all'epoca, era talmente ossessivo questi trailer che venivano trasmessi alla televisione, che se qualche studente faceva qualche cosa di sgarbato nei confronti di una ragazza, dicevano, ma da retta non tu sarai mica maniac, gli dicevano. E dall'82 si fa l'associazione con i delitti precedenti e si pensa a un serial killer? No, ho già pensato prima al serial killer, già fin dal primo delitto dell'81, perché c'è questa constatazione, che l'arma è la stessa, non solo l'arma ma anche il munizionamento. Nell'82 si fa qualcosa di diverso, si comincia a percorrere, a repercorrere la pista sarda, perché è dopo l'82 che ricompare il processo del 68. Su questo è importante quello che dice Mario Spezzi, che non è mai stato smentito. vuole dire che arrivò al giudice, che era il dottor Vincenzo Tricomi, un biglietto anonimo, in cui c'era questo articolo di giornale, che riguardava l'omicidio del 68, dove a maggio c'era scritto perché non rivisitare quel processo il cui fascicolo è a Perugia. A Perugia il fascicolo c'era perché la Cassazione aveva in parte cassato la sentenza di condanna di Stefano Mele, avendo rilevato che la diminuente della semi-infermità mentale, pur riconosciuta a Stefano Mele, aveva diminuito in maniera troppo esigua la condanna e quindi il giudizio di rinvio dalla Cassazione, all'epoca non si poteva, non poteva essere che il giudizio di rinvio veniva celebrato dalla stessa corte che aveva d'appello che aveva esaminato il primo grado, quindi si andava alla corte d'appello vicina che era a Perugia, corte d'assisi d'appello a Perugia, ecco perché si trovava là. Quindi questo personaggio che manda questo biglietto è uno che è in grado di fare questa associazione che finora nessuno ha fatto. La storia del maresciallo Fiori, quale si ricorda? No, a me non mi convince affatto. perché voglio dire questo insomma, uno che fa parte dell'arma e che sa che a un bel momento quello è un caso chiuso, con sentenza passata in giudicato, gli è stato condannato al marito, è tutta una storia di gelosia, è tutta una storia di… si mette lui a mettere una fuccia nell'orecchio per ricominciare il caso e la… no, 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 non fa… Lei vede questo biglietto come… l'autore di questo è il mostro o un anonimo? no, 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 è il mostro, è il mostro di lui. E perché vuole riportare l'inquirante su… perché fa parte del gioco. Vedete questa non è un amico solo, eh. C'è anche la lettera con il pezzo del seno che viene spedita alla dottoressa della Monica. Ecco perché dissi io a vostri colleghi, andate a intervistare lei, che non è… che è contemporaneamente un modo per accrescere il gioco e cercare un contatto con gli inquirenti. Veda, una persona che ha questo tipo di… di pulsione, questo tipo di… chiamiamolo genericamente, malanno, di tipo psichico, psicologico, sessuale, è un isolato, è un uomo che è solo, eternamente solo. Non può parlare con nessuno di queste cose sue, capisci? E gli unici con cui può entrare in contatto sono proprio la gente delle istituzioni. È con loro che lui può cercare questo rapporto. E questa è una ragione. Poi c'è un'altra. Ed è il terrore. Con questa lettera lui ha terrorizzato l'assidio della Monica. Intimidatorio. Intimidatorio. Vodo tremendo. Tenta è… Facciamo un passo indietro. Poi le 83 due uomini subiscono questo attacco da parte del mostro. Perché i due uomini? Anche lì, vede, c'è una ragione d'urgenza. Ripeto, da quando… dall'81 d'ottobre, inizia questo… Anzi, dall'81 di giugno, quando in galera c'è Enzo Spalletti, comincia questo rapporto interattivo fra l'assassino e le indagini. Lui ci tiene a non essere spossessato del copyright. C'è da dire questo. Questa sua sindrome psicologica si sposa con un aspetto narcisismo fortissimo. E quando a un certo punto lui teme che qualcun altro possa fare le spese dei suoi atti, e dove interviene. E qui c'è anche un'altra ragione, però. Dunque, dicevo, all'epoca c'è in galera Francesco Vinci. Che è successo? C'è stata questa lettera, questa segnalazione, andata a vedere il processo del 68. Qui si verificava la situazione che qualcuno definisce anormale, straordinaria, ma com'è mai? Perché questo qualcuno non conosceva il generale Innocenzo Zuntini, che io ho conosciuto quando era vivo. pensava molto per bene, fra l'altro. Non solo, ma di una pignoleria, insomma, un po' asfessiante, di la verità. E per essere così pignolo, lui, quando faceva una perizia, ma lo faceva sempre questo, faceva una perizia di tipo balistico su un munizionamento, per esempio, ha avvisuto di prendere i bossoli, metterli in una bustina di pasta e spillarla alla sua perizia. È una cosa, fra l'altro, anche giusta. Perché se in secondo grado qualcuno vuole rivedere la questione, ecco, io ti lascio da una parte, in qualche modo, una cosa che non si fa, perché in realtà si direbbe, dopo fatta la perizia, bisogna distruggere tutto, mandare tutto alla divisione dell'artiglieria, che distrugge ogni cosa. Ma, la verità, io aspetterei a far questo, a distruggere certi oggetti, aspetterei che ci fosse una sentenza passata al giuricato, questo almeno, insomma, no? E lui, infatti, c'era così. E difatti, al fascicolo che questo anonimo dice di andare a vedere a Perugia, c'è questa bustina dentro i foglietti, con dentro i, no, scusi, non i foglietti, i bossoli, si fanno e si vede che sono stati disparati dalla stessa pistola. Ora, vede, a me basta questo per dire che il più delitto è il delitto del mostro. Perché, insomma, al di fuori da questa ipotesi c'era un'altra ipotesi, che è quella del passaggio di mano della pistola. Da Stefano Mele, o da suoi eventuali accoliti, a questi altri che successivamente uccidono questa coppia. E cos'ha questa pistola? Una specie di metafisico tensione a uccidere coppie che stanno a fare l'amore in macchina alla notte? E' la pistola che attrae? Oppure, come vorrebbe una certa signora, che preferisco nominare perché non posso suggerire questa signora, ma tanto sapete di ipad. perché nel rito più o meno satanista la pistola che si usa deve essere già servita per uccidere tutte storie superstiziose, insomma, che non hanno senso, non hanno significato. Allora, in serie al killer, non c'entra niente al diavolo, non c'entra niente alle sette sataniche? Assolutamente no. Vedi, questa storia alle sette sataniche è una storia che nasce proprio per quando, a un certo punto, come nasce questa storia? Io penso che sia più che assurda astrusa, proprio fuori da qualsiasi contesto. Vedi, bisogna distinguere. Io non è che sia un appassionato di criminologia, la frequento per questione di carattere professionale e anche da un punto di vista non solo da avvocato, ma anche da scrittore. Però, insomma, l'aspetto statistico del problema, l'aspetto, diciamo così, della ricorrenza di determinati fatti, beh, bisogna crederci a queste cose. Ora, l'esistenza di due persone, almeno due, che commettono certi delitti di un certo tipo, è piuttosto rara, ma esiste. C'è la coppia, per esempio, Lucas Toll negli Stati Uniti d'America, che dice, abbia fatto, beh, sono stati accusati di un numero incredibile di delitti. Si parla addirittura di 300 vittime nel loro caso. Ma, insomma, queste sono due persone che avevano una affinità di tipo sessuale. Oltretutto, tutte e due portatori di una, di un livello perverso di omosessualità, che sono trovati, incontrati e per un certo periodo di tempo hanno agito insieme. E questo è possibile. Come è possibile che esista un altro tipo di coppia, la coppia criminale dell'uomo e della donna. Fra di loro collegati, appunto, da una affinità di tipo sessuale, sono quelli che in psichiatria si parla di folia de. Ma i casi di folia a 4 o a 5 o a 6, insomma, sono piuttosto improbabili, insomma. Voglio dire che ci sia una congiunzione di persone che associate, che si associano perché portatrici di questa pulsione di tipo psicopatologico è piuttosto poco verosimile dal punto di vista criminologico, diciamo così. Ma il fatto è questo. È che tutti questi delitti ci sono una serie di impressionanti prove che sono state commesse da una sola persona. Per esempio, l'ultimo delitto, quello che viene considerato è l'ultimo delitto. Io ho i miei dubbi, è vero che sia l'ultimo, anzi, sono convinto del contrario, non è per niente l'ultimo. Ci sono altre quattro persone, due e due, che vengono uccise e bruciate nell'automobile. Nel 1993, l'estate, nello stesso arco di tempo di un mese, e tutte e due queste coppie sono collegate con le vittime mostre Firenze. Con le case, ora poi dirò per quale ragione. Nell'ultimo delitto, il giovanotto scappa dalla senda e viene assalito da dietro. con colpa alla gola del pugnale, del coltello, e poi è finito a colpi di coltello, dallo stesso assassino che ha sparato poco prima dentro la senda. Se erano due, anche il secondo avrebbe sparato, o avrebbe affrontato in maniera diversa. No. C'erano solo lì. Comunque, possiamo dire che nell'85 è l'ultimo delitto di coppia. Di coppia, sì. Per una coppia? Per una coppia, sì. Perché gli altri sono coppie, vedo? C'è la Milva Malatesta e il figlio di Tomirco. Coppia, uomo-donna. E ci sono i due Sardi, Vargiù e Francesco Vinci. Francesco Vinci, scusi, che non solo sono una coppia, ma sono anche una coppia, qualche legame. il tipo sessuale, è vero? Tendiamoci bene, eh. In tutti questi anni, come lei si è immaginato questo individuo che commetteva questi omicidi? Sono immaginato come uno dei più pericolosi serie a killer che siano mai apparsi in Europa. perché è freddo, il calcolatore e soprattutto per la determinazione a uccidere. Guardavo solamente le vittime coppie, non ha mai lasciato dietro di sé un ferito. Il Mainardi ha resistito per qualche ora. Perché lì si è verificata una situazione molto particolare. che è questa. Lui si avvicina, spara, colpisce sempre prima l'uomo. Perché dall'uomo ci deve aspettarsi una ragazza. Poi colpisce la ragazza. La ragazza non muore subito. Dopodiché, ecco, bisogna andare sul posto per capire. Lì, dice, c'era una piazzola. Ma quale piazzola e quale spiazza? Questi due ragazzi hanno paura. e quindi si sistemano sulla strada, praticamente, proprio un piccolo slargo che c'è sulla strada. E questa sera è la sera della festa del paese di Cervaia e ci sono moltissime auto che transitano. Lì è impossibile fare le scissioni. Non si può fare lì. Allora che fa questo signore? Dopo aver sparato, si mette lui alla guida di questa macchina dove dentro ci sono i corpi dei due ragazzi. E si avvia verso la direzione dove ha lasciato la sua auto defilata per togliersi dalla strada, mettersi in una posizione dove l'escissione possa fare. Che cosa succede? Succede che la ragazza è sempre viva, è vitale. Urla, si agita e scalcia. Da Sevilla poste dove si trova, tira, calci. Tanto che ha... Questi sono fatti perché ci sono delle prove di questo. Ha gli stinchi e scoriati di questa ragazza. Lesioni vitali. Perché? Perché ha scalciato e ha preso il sedile anteriore. Allora cosa fa questo qui? La Migliorini. La Migliorini. Antonella Migliorini. Questo prende la pistola, si gira e le spara. E la prende in fronte. Ecco perché c'è un bossolo all'interno della macchina. Ma facendo questa operazione perde di vista la strada e finisce con le robe queste due e la cometta. E da lì non si può muovere più. Ecco perché allora lui spegge il motore che chiude a chiave la porta della macchina e lancia le chiavi lontano. dopo di che siccome quella è una macchina in cui se lei spegge il quadro i fari restano accesi con la pistola spegge i fari. Perché spegge i fari? Perché lui sa che quella è una strada trafficata e che questi fari un po' sghembi possono attirare l'attenzione di qualcuno. Ecco, beh, guardi descrivendo questo episodio qua io le descrivo il personaggio contemporaneamente. una persona cioè attenta, fredda, lui colpisce questi fari perfettamente, li spegne tutti e due. Poi si accorge che dentro la macchina in maniera di ha fatto un movimento perché non è completamente forte, non è morto il ragazzo. è in coma, diciamo, e quindi spara attraverso il finestrino, il finestrino attraverso il paraprezza. E gli spara. Lo prendo, lo prendo, lo prendo. E poi sta adottando. Ma questi spari non stanno risentiti. Stanno risentiti da una coppia che si trova a 100 metri di distanza oltre un piccolo dosso. Senti, e che a un certo punto dico, beh, insomma, qui discuto fra l'altro, eh, questi due. La ragazza dice, no, la lascia perdere, non andava a nessuna parte. Ma voglio dire, insomma, si avvicinano questi due. E vedono il foro di proiettile su Parabrezza. Da escludere l'incidente stradale perché c'è un foro di proiettile. Poi arrivano un'altra coppia di ragazzi. si forma qui di una specie piccolo assembramento di ragazzi. Che dia, questo è, sa, mi mostro. E allora, uno, una coppia va a telefonare a Carabinieri, e un'altra va a telefonare alla Misericordia, la Croce Verde, di molto esperto. La Misericordia è quella che arriva per prima. Arriva, scendono allegranti, Guarguaglini e un altro ragazzotto che era un infermiere, quelli volontari. E tutti e tre vedono che due ragazzi, l'Antonella e l'altro e il Mainati stanno sul sedino di dietro, opposte le ore. La storia del ragazzo in questo mondo è tutta l'ora, per niente, per niente. E' stato il mostro che si è messa a sedere sulla macchina. E' stato il mostro che è andata all'indietro. E' stato il mostro perché aveva questa necessità di portare via questa coppia da qualche parte per fare le scissioni come ha sempre fatto. Questa volta non l'ha potuto fare, per questo motivo. Allora, nel 1984, 29 luglio, se non sbaglio. Esatto, 29 luglio. Pierontini e Claudio Stefanacci vengono uccisi a Vicchio, stesse modalità ma con una variante. l'escissione del seno sinistra dell'Arontini. E qui c'è un'escalation? Certo, si chiama progressione criminosa. Conosciutissimo questo aspetto di un criminale di questa natura. e via via acquista sicurezza. E diventa una cosa strafottente nei confronti degli inquirenti. Porta via anche il seno. Per accrescere questa sua volontà di deturpare l'elemento femminile. Come si presenta la scena del crimine il giorno seguente quando sono stati scoperti? Beh, questa era una piazzola, uno spiazzo, un po' in alto, con la collina che scende da un lato e che veniva a impedire che qualcuno potesse entrare da sinistra, mentre dalla parte destra era abbastanza libera la macchina e la si trovava questa macchina. I ragazzi si erano messi come al solito in posizione per poter ripartire abbastanza la svelta. Ma vedi, lì c'è un'altra cosa importante e che rappresenta un'altra costante dei delitti insieme alla scelta del giorno, sempre il giorno prefestivo oppure il giorno prima di uno sciopero generale. il 9 lunio. Un corso d'acqua. Un corso d'acqua. Un corso d'acqua, la discoteca. La telefonata. Tutti questi elementi lei come li interpreta? Perché sono delle costanti in tutti gli omicidi. Eh sì, quasi tutti. Anche qui c'è la telefonata. fatta questa volta a Carabinieri. Per dire, guardate, c'è due morti. Come c'è la telefonata. Crudele. Cattiva. Questo tipo veramente perfido. Alla famiglia della Susanna Cambi. Cattiva. Nell'ottobre dell'81. Telefonata. Cattiva. Poi c'è uno strano guasto telefonico per cui la telefonata si interrompe. c'è la telefonata. Cattiva. Nell'84. Come ci sono le telefonate fatte dalle grandi per esempio. Di minacce. Di cui l'ultima. avviene l'84 pochi giorni successivi all'omicidio del 29 di luglio quando questo povero uomo è andato in vacanza in una pensioncina di Rimini e questo lo raggiungerà e ci stessimo l'hanno finito vuol dire fra l'altro qualcuno che ha in qualche modo delle delle possibilità di accertare determinate cose di essere di raggiungere determinate informazioni io ho sempre parlato di un poliziotto o qualcuno di simile che potrebbe anche essere un uomo dei servizi perché? c'è questo aspetto la telefonata dalla famiglia della Cambi arriva non nell'abitazione della Cambi perché loro si sono trasferiti da poco sono andata a casa della zia e la telefonata la telefonata la prende la zia infatti a saperle certe cose la telefonata alle grandi fatta nel i primi d'agosto dell'84 e la sapere è quello che è andato l'arab a farsi ma perché fa questa telefonata? perché gli viene lei in mente di minacciare così pesantemente questa persona dopo l'omicidio della dell'Arontini perché sa che dopo l'omicidio dell'Arontini le indagini riprenderanno e alle grandi può dire qualcosa che non è quello che molto intelligentemente gli ha fatto credere all'inizio la della Monica cioè a dire che il ragazzo era vivente in ambulanza ha detto qualcosa ma qualcosa che può avere saputo lui direttamente alle grandi può aver visto e cosa può aver visto dopo che si è avvicinato quasi subito una macchina è la polizia e che fa il paio con Enzo Spalletti perché Spalletti viene anche lui terrorizzato con le telefonate fatte alla famiglia che poi ha visto Spalletti da là su dove si trovava la macchina con quella bolla azzurra indizi però c'è anche una prova ed è il portafoglio di Stefanacci che Stefanacci teneva normalmente la tasca dietro i pantaloni i pantaloni di Stefanacci se li è tolti e sono sotto un sedile senza portafoglio il portafoglio è per terra forato da parte da un colpo d'arma da fuoco come è possibile questo bravo solo se questo portafoglio è esibito in qualche modo nella direzione di uno sparo e perché allora Stefano ce ne va a mano il portafoglio nel momento dello sparo se non per esibire dei documenti si capisce perché per quale ragione nessuno di questi ragazzi si ribella ma diamine sono tutti giovanotti sono tutti pieni di vita piena di forza ma come è nessuno che si dia un po' d'affare che insomma una scappatoia oppure una reazione nessuno perché perché qualcuno si è avvicinato perché qualcuno ha detto cosa fate qui mi faccia vedere i documenti ed ecco un'altra conferma omicidio della Teresa Torrini del 74 il libretto di circolazione ben trovato sul tappetino della macchina Stefania Pettini si ha detto Torrini oh scusi scusi no perché c'è un altro caso in cui c'è una Torrini Pettini il libretto di circolazione si viene nel nebo letto il cruscotto non finisce secondo lei dall'85 in poi dopo Scopetti perché smette perché secondo me non smette affatto no smette per quanto riguarda le coppie perlomeno sì a parte a parte vinci e farci bisogna vedere bisogna essere sicuri anche rispetto alle coppie c'è per esempio una coppia di finanziate vengono ammazzate in Calabria nelle stesse situazioni e insomma poi un last morder si può anche soddisfare uccidendo una persona sola perché vede perché lo sa di essere sospettato e che la corda non la può tirare tanto vede ci sono delitti che sono stati commessi per per allontanare qualsiasi sospetto da sé e il delitto che i delitti del 93 che riguardano queste quattro persone Francesco Vinci e la Milva Malatesta sono entrando dentro questa situazione perché Francesco Vinci l'aveva visto il mostro nel 68 e ne ha parlato verbale dibattimento del processo 68 c'è la dichiarazione Francesco Vinci che dice io vidi alle cascine del riccio di Signa c'è un posto c'è un posto la cascina del riccio signor la barba al hocci che era in qualche modo aggredita da un tale il quale la stava minacciando lì lui non ha mai parlato di questa cosa quando va a finire in galera lui sta zitto non le dice non lo dice questa cosa però lui il Vinci un'idea se l'era fatta che ci potesse essere un collegamento fra questa persona con questo atteggiamento minaccioso nei confronti di Barbara Locci e la Barbara Locci del resto racconta prima di morire aveva raccontato a Pasquale Cutrona che c'era un tale che l'inseguiva con la macchina e che gli aveva mostrato la pistola addirittura ecco perché muore Francesco Vinci e la mala testa perché era la sua amante del Vinci meno così si dice così appare da certe carte io però su questo beh insomma c'è un collegamento c'era perché il caso secondo lei del mostro di Firenze è sempre appassionato così tanto per così tanto tempo e anche non solo in Italia anzi soprattutto all'estero è un serial killer atipico anomalo un caso che comunque nessuna parte altra parte del mondo è accaduto beh questo lo direi è che poi c'è tanta rumore stati altri casi abbastanza avvicinati no è che lei mi dica quale altro caso ha visto indagini della durata di oltre 30 anni che ora sono diventate 45 circa non faccio il conto ma 68 68 68 2010 quante sono 42 anni è un esiste abbiamo battuto tutti i record del Guinness dei primati e noi in Italia con questa storia qui entriamo nel discorso verità giuridica e verità oggettiva perché secondo la verità giuridica esistono dei colpevoli che sono i cosiddetti compagni di merende questi due Pacciani no Pacciani ne è uscito Pacciani no diciamo la verità Pacciani no perché Pacciani è stato assolto con formula più che piena non il capoverso dell'articolo del codice di procedura penale ma proprio pieno e con la sentenza fatta di molto bene va beh Francesco non tanto Francesco Francesco Ferri il presidente l'estensore è un certo Carvisiglia gran giudice secondo me tornando al profilo psicologico per così dire di questo individuo lei che deduzioni ne ha fatto in tutti questi anni come il modo di operare lei mi ha chiesto prima se c'era una componente giustizialista sì nel senso che è il suo alibi personale lui giustifica queste azioni con un aspetto diciamo così di purezza di odio nei confronti di questi giovani che si esibiscono in automobili dando scandalo lo scandalo che parla anche la Bibbia no quindi c'è anche una componente che definirei paranoide da questo punto di vista è una persona tremendamente disturbata che però ha queste normalmente appare abbastanza normale oddio che ci sia delle persone che lo sospettano che l'hanno individuato è quasi ineluttabile però capisce la situazione in cui ciascuno si è creduto opportuno andare da giudici dagli increti a dire sono due mostri lui e questo ce ne sono persone a centinaia per esempio un avvocato fiorentino sta accusato dall'amante una ballerina un'ex ballerina brasiliana che l'ha abbandonata e questa si è vendicata c'è tutto il busto di Firenze e come si fa anche uno che abbia le sospette come fa a puntare il dito non si può non si può e e quindi la cosa si trascina però questo è un personaggio che oltretutto per questa estrema capacità di uccidere questa determinazione questa freddezza questa organizzazione quasi perfetta c'è un solo caso in cui spagna centenna ed è quello di Baccaiano tanto è vero che successivamente arriveranno delle lettere in cui dirà non farò più errori una lettera in particolare quella è la razione scritta lui comincia così quella lettera sono molto vicino a voi è un po' tardi dicevo una persona così non è che si trova come se c'è in Toscana a tutti i luci e non escluderei oltre a che i delitti di coppie delitti che riguardano la prostituta i guardoni gli omosessuali ma ho messi altri che sono quei delitti che sono rimasti ricoperti negli annali giudiziari italiani che rappresentano delitti utili a certe situazioni c'erano tanti guardoni sempre nella campagna fiorentina oltre a Spalletti nessuno secondo lei ha visto nulla no secondo me qualcuno ha visto come Spalletti però c'è da dire che prima di agire in una certa zona lui fa un'operazione di pulizia da questo punto di vista prende i guardoni che preventano la zona e li terrorizza qualche volta uno in una certa occasione uno l'ha ucciso questo uomo è stato morto a due passi da dove vengono uccisi la coppia di Calenzano nella macchina bruciata attenzione macchina bruciata che è passato per suicidio questo con la tannica della benzina con cui era stata una macchina di fuoco si trova a 20 metri distanza all'automobile non è possibile e c'era un'altra ancora a Giogoli macchina bruciata anche lì queste queste sono notizie che non sono mai apparse no no mai le ha scritte questo medico che ha fatto questo studio e le ho detto di cui io rado una copia a qualche parte ma mi chiede tra là fuori che chissà dov'è perché insomma allo studio c'ho uno scaffale pieno della roba del mostro qui a casa insomma secondo lei il mostro di Firenze non si saprà mai chi è? ma io credo che più poi si saprà sa perché vorrei dire una battuta finale poi si smette però faccia conto che questa sia una cosetta a livello amichevole basta non lo sa nessuno questa cosa anche l'abbia scritta in un articolo ma di mostro di Firenze si è occupato uno stradamus con questa quartina che fa parte di una cintura mi ricordo vale a partire invece la faczione cruelle a robe longue viendrà cacher su un ponti poignard saisì Florence le duc e denis long s'ha descuverte par il mur e flangare la faczione accudere dal vestito lungo sarà coperto sotto appuntiti pugnali tenere in scacco Firenze e il duca per un tempo trascinato e lungo la sua scoperta fra immaturi e informatori divertente con questo ci chiudiamo come vuole ma è divertente sa perché è divertente lo sa come lo chiamavano vigne quando studiava la verce come era sempre tutto un gesto benvenido tutto canzo come è sempre stato tirato a luci ora gran duca bravo chi ti ha detto? cazzo e questo dice se si france le duc dead is long ma scherzi e questo è un giudice è un giudice è un giudice Grazie.